Grande successo per la 51esima Sagra della Porchetta Italica di Campli, con la premiazione finale tenutasi in piazza Vittorio Emanuele II. La Coppa del primo classificato è andata al maestro porchettaio Lucio Di Stefano, seguito al secondo posto da Nicolino Mercuri, terzo posto per Fulvio Pallotta. Il premio speciale della critica è andato a Viro Gallie, mentre il premio della giuria social è stato vinto da Nicolino Mercuri. Presenze da record per la Sagra della Porchetta Italica di Campli, che al primo anno di ripartenza, dopo le restrizioni Covid, registra il pienone in tutte le sere dell'evento. Oltre 300 porchette vendute e più di 100.000 persone hanno confermato Campli come la più amata dal pubblico. Un altro dato che dimostra quanto questo evento sia oramai affermato e diffuso è la forte affluenza da zone anche lontane dal comprensorio Terramano. Nella conferma il forte richiamo anche dalle zone di Pescara Chieti e dalla regione Marche, con maggiore accento delle province di Ascoli Picene e Macerata. Molti visitatori sono arrivati anche dall'entroterra laziale. Valore aggiunto durante i giorni della manifestazione è stata la presentazione di libri e convegni. Molto valorizzati anche tutti i monumenti della città, che sono rimasti eccezionalmente aperti per l'evento, accessibili al grande pubblico. Oltre che a riempire le piazze di Campli, le persone hanno dimostrato il loro gradimento, riempiendo gli spazi del web con migliaia di like e commenti sulla pagina ufficiale della Sagra.